ciao a tutti amici dell'acquario benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro posso essere d'aiuto di ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami acquario tendenze energetiche affettive per la seconda parte di novembre 2022 ok abbiamo la carta della morte amici dell'acquario periodo di rinascita periodo di cambio pelle mi verrebbe da dire perché quando c'è la carta della morte si lasciano sempre indietro abitudini piuttosto che persone piuttosto che determinati ambienti o forse è più una cosa anche di modo di vedere se stessi che in qualche modo viene cambiato viene trasformato si lasciano indietro determinate credenze andiamo a vedere con i tarocchi che cosa si tratta nello specifico intanto vi ricordo come sempre che le letture sono di carattere generale sono fatte per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto voi prendete semplicemente quello che vi serve lasciate andare al resto all'universo se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente segno lunare o venere sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi wow allora ripartiamo con la carta della morte quindi è un'energia piuttosto forte per qualcuno è un passaggio che si sta vivendo in questo momento per qualcun altro è un passaggio che si è già vissuto questa trasmutazione questo cambio pelle diciamo così c'è anche un otto di spade lotto di spade denota una sorta di energia un po pesantuccia un po bloccata ma è bloccata perché voi credete di essere bloccati quando c'è un otto di spade si parla sempre di un energia un po troppo focalizzato sul lato negativo delle cose si parla di sensi di colpa si parla di qualcuno che non sa bene o meglio si sente impotente davanti alla situazione e difatti con questo asso di bastone al contrario qualcosa mi dice che non state agendo non state facendo niente di concreto ma neanche a livello intenzionale per riuscire ad uscire da questa situazione credo che il momento di trasformazione che stiate vivendo sia abbastanza importante e datevi anche il tempo giustamente di di affrontare il processo no abbiamo poi questo cavaliere di spade sento che per qualcuno questa morte fa riferimento alla morte di una relazione con qualcuno perché il cavaliere di spade sempre un'energia che va e che viene c'è non c'è è una persona che guarda abbastanza se stesso è comunque una persona determinata però diciamo che come priorità a il sé ok queste forse sono un po troppe andiamo avanti vediamo che cos'altro vi dicono per la fine del periodo quindi per l'ultima parte di novembre perché comunque quando c'è la la morte si taglia qualche cosa ok wow abbiamo un imperatore e la regina di bastoni quindi arriva una sorta di stabilità probabilmente questo taglio questa separazione che avete dovuto effettuare è vero magari qualcuno ha creato dei sensi di colpa ha creato un senso di impossibilità a muoversi però in realtà poi vedo che arriva una sorta di stabilità potrebbe essere che se siete single arriva una nuova persona nella vostra vita o queste figure potrebbero fare riferimento al fatto che ci sia una persona vicino a voi nella fine novembre verso fine novembre così che vi dà una mano che vi aiuta che lì per sostenervi fondamentalmente in questo passaggio avendo la carta dell'imperatore per qualcuno si tratta di un passaggio di tipo diciamo burocratico può fare riferimento a una casa terminiamo poi con la carta dell'eremita e qui sento che il consiglio è quello un po di fare un lavoro di introspezione qui avevate lotto di spade è una carta normalmente diciamo nei tarocchi tradizionali raffigurata come bendata e quando una persona è bendata che agli occhi chiusi non vede fuori l'unica cosa che può guardare dentro e anche qui la carta dell'eremita agli occhi chiusi quindi si tratta di ricercare la vostra verità di cercare il vostro vero cammino potrebbe essere però anche con questa regina di bastoni sento che qui appunto ci si riprenderà un pochettino in mano al proprio potere personale andiamo a vedere i single io intanto vi dico che ho già pubblicato parte degli oroscopi del 2023 trovate tutto nelle playlist in questo momento sono già usciti l'oroscopo generale e due approfondimento approfondimenti di questo oroscopo che sono quello sulla crescita spirituale quello sull'amore seguirà poi quello sul lavoro e economia allora partiamo con un re di spade e sotto questa carta della morte ragazzi è significativo nel senso che potrebbe essere proprio la persona che ha tagliato o con la quale avete tagliato qualcosa mi dice che sono stati gli altri a tagliare con voi e qui guardate il 4 di spade una carta di ritiro spirituale alla stessa energia un po delle remite qui abbiamo un diavolo al contrario che è quello che comprime quello che blocca che molte volte è merito vostro nel senso non è una persona esterna questo diavolo ma è solo frutto della vostra mente ok interessante perché c'è questo due di coppa al contrario ed è come se qualcuno qui non si volesse legare non volesse scendere a compromessi o non volesse direttamente più incontrare questa persona che potrebbe essere una persona del passato per qualcuno il re di spade fa riferimento a un genitore un genitore che magari vincola un po troppo sta di fatto che c'è il carro il carro una carta di movimento è una carta di viaggio è una carta che parla di prendere una determinata direzione o la sensazione che qualcuno si deciderà a comprare casa andiamo avanti abbiamo un asso di bastoni al contrario e si ripete e si ripete al contrario è interessante perché la carta del caso è una carta che indica movimento trasloco movimento in grande mentre la carta dell'asso di bastoni che è una carta che parla di azione e di intenzione è girato al contrario può anche far riferimento al fatto che non vogliate più incontrare qualcuno da un punto di vista intimo o fisico proprio magari viso a viso magari va bene una telefonata ma l'incontro proprio fisico forse non so per qualcuno fa riferimento invece al fatto che ci si sposta per cercare di attuare questo incontro fisico andiamo a vedere ok ok sì non credo che possa andare a buon fine sinceramente se perché qui comunque avevano un'energia del cavaliere di spade no ma quindi se questa persona ha un po questa energia del cavaliere di spade quindi è un po intermittente vai viene vi dice cose che poi non sono c'è questa morte questa sofferenza c'è questo bisogno di riprendere le pile di ricaricare di uscire da questa situazione un po stagnante sento e voi comunque state cercando comunque farete un movimento nei confronti di questa persona ma sento che è come un po irraggiungibile questa persona difatti poi c'è l'eremita alla fine della lettura è un po questa sensazione di sentirsi comunque soli o di vivere la situazione da soli quando c'è la carta del cavaliere di fante di bastoni al contrario e qui abbiamo un cavaliere di spade per qualcuno si può trattare c'è anche il diavolo quindi per qualcuno si può trattare di una persona un po egoista un po anche narcisista in qualche caso dalla quale comunque sarebbe meglio togliersi perché si è creata una sorta di tossicità che vi fa essere scarichi se il quattro di spade al dritto la carta del guarigione della guarigione quando al contrario può parlare del fatto che vi stiate ammalando in questa situazione è interessante perché questa questa raffigurazione qui lotto di spade normalmente è una donna accerchiata da spade che rappresenta un po la prigione della mente perché è vendata qui ha una mano sulla gola è come se qualche cosa non riuscisse a venire fuori non riuscisse ad essere detto va bene andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione andiamo a vedere per voi come saranno i movimenti energetici in questi 15 20 giorni ok abbiamo una carta del mondo quindi qui il cambiamento lo sento positivo un re di coppe wow quindi il re di coppe può fare riferimento al vostro partner alla vostra partner o anche al semplicemente al vostro modo di vivere la relazione in questo momento e quando c'è di coppe perché la relazione è matura il sentimento è maturo abbiamo poi però un otto di bastoni al contrario qui di nuovo quella mancanza di comunicazione o comunicazione un po forzata ecco potrebbe migliorare la comunicazione perché qui con questo cinque di coppe c'è qualcuno che ha la sensazione di perdere un'occasione e come il potevo dirglielo potevo essere sincera o potevo fare quel tipo di azione quel tipo di movimento andiamo a vedere il carro c'è il carro scusa è che sto facendo anche quelli del 2023 di lettura ogni tanto mi confondo allora abbiamo la carta della stella la carta della temperanza entrambe al contrario ma anche una sorta di equilibrio sono due carte che hanno delle brocche in mano la stella da con tutte e due le mani mentre la temperanza dai travasa da una brocca all'altra è come se sentisse una sorta di necessità di porvi nuovi obiettivi di porvi nuove sicurezze mi viene da dire c'è la stella al contrario qualcuno lo sente un po poco speranzoso in realtà non capisco bene perché forse per questa per questa per questo cinque di coppe questa paura di perdere un'occasione perché in realtà qui le cose partono molto bene devo dire c'è il mondo è una carta di pienezza una carta di cambiamento è una carta di forte appagamento è la carta del completamento e può essere che il completamento sia appunto con questa persona perché avete paura di probabilmente avete paura di perdere la persona qualcuno può essere che abbia paura di che sia tutto troppo bello per essere vero cose di questo genere ma fondamentalmente il disequilibrio lo vivete voi e può essere nella vostra parte femminile perché se c'è la temperanza parla di mettere in equilibrio il cuore la mente ovvero la parte di nella parte young la parte di azione la parte di ricettività e qui sento avendo questa regina di bastoni che qualcuno ha bisogno di risvegliare il divino femminile ragazzi andiamo a vedere l'ultima carta andiamo a vedere come termina la lettura abbiamo cinque di spade al contrario cinque di spade al contrario è sempre una carta di di confusione un po mentale o come la sensazione che qui a livello emotivo le cose vadano a gonfie vele però c'è qualche cosa a livello mentale che non vi convince ma molto dipende da queste due carte al contrario dal fatto che voi magari non vedete un obiettivo non vedete un ho la sensazione che qualcuno abbia perso le speranze proprio datemi un'altra carta per questa stella è come se qualcuno avesse perso le speranze di ricevere questa comunicazione questa proposta questa offerta questo andare ad un gradino superiore salire il passo dopo in quello che è la relazione però il cambio c'è già stato ai ragazzi o comunque lo state vivendo dovete anche dare tempo al tempo nel senso le cose comunque bisogna di maturare prima che ci sia quello che potrebbe essere un passo come per esempio la casa sento che molte persone vorrebbero andare a convivere perché è come se i tempi fossero maturi però in realtà è una vostra impressione mi verrebbe da dire perché comunque avete ancora una paura di fondo di perdere è quello un manifestare da un punto di vista di carenza siccome voi avete paura di perdere la persona allora volete andare a vivere insieme per tenerlo più stretto o più stretta in realtà quello non è un buon modo di manifestare una convivenza cioè è un modo per tenere di più sotto controllo l'altra persona ma questo vuol dire che non vi fidate che non conoscete bene l'altra persona e che forse non è proprio il caso di andare già a convivere perché se non c'è ancora questo senso di completamento ma sento che è una paura perché in realtà il senso di completamento c'è io credo che la relazione che abbiate instaurato con questa persona sia veramente di un certo valore anche se magari agli inizi però c'è un re di coppia una persona matura una persona apposata una persona di un certo tipo ok andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte degli cing vediamo qual è il consiglio carta numero 50 il crogiolo guardate la gabbia mentale sì mi viene da dire rimanete un attimino in osservazione perché qui c'è qualche cosa che apparentemente e dico apparentemente vi blocca sento che è una paura sento che paura di perdere l'altra persona sento che molte persone non si vogliono far coinvolgere troppo a livello emotivo perché vedono che potrebbe essere tutto troppo bello per essere vero e ha un paura di rimanerci di nuovo male però questa è una proiezione cioè non tutte le relazioni vanno lo stesso modo cercate più che tutto di imparare a capire chi avete davanti e se vale la pena andare avanti già dalle prime volte che incontrate una persona si capisce se questa persona è più o meno interessata alle stesse cose che siete interessati voi piuttosto che si capisce se si hanno gli stessi valori insomma amici dell'acquario questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile scrivetemi nei commenti come vi risuona se vi è piaciuta potete comunque mettere like potete iscrivervi potete condividere commentare ogni tipo di supporto è un aiuto importante per me io vi ringrazio di essere rimasti qui fin qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao